Uomini e donne. Maria De Filippi scioccata. Scelta clamorosa di Brando Efrician. Il pubblico sconvolto. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nelle ultime puntate di Uomini e donne, sembrava che Brando Efrician stesse per fare la sua scelta finale tra le corteggiatrici Raffaella Squotto e Beatriz Dorsi. Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata. Durante un'esterna con Raffaella, le cose non sono andate per il verso giusto. Dopo una discussione, lei ha accusato Brando di favorire Beatriz per ottenere conferme. La tensione è aumentata in studio quando Brando ha chiesto a Raffaella di ballare e lei ha rifiutato. Aggiungendo ulteriori dettagli al dramma. Nell'esterna con Beatriz, sembrava che le cose fossero migliorate con un bacio scambiato. Tuttavia, il caos è scoppiato in studio quando è emerso un audio in cui sembra che Brando confessi di aver ballato con Raffaella solo perché piangeva. La situazione ha raggiunto il culmine quando Brando ha improvvisamente annunciato di non voler più fare la scelta finale. Affermando di non essere sicuro delle sue decisioni. Questo colpo di scena è senza precedenti nella storia del programma. Il trono di Brando è stato oggetto di discussioni e critiche da mesi. Con molte persone che lo accusano di prolungare la sua permanenza in studio solo per aumentare la sua popolarità. Le opinioni negative si accumulano sui social media. Con molti spettatori che esprimono frustrazione per la mancanza di progresso nel programma. Il futuro del trono di Brando rimane incerto. Mentre il pubblico resta in attesa di ulteriori sviluppi in questo dramma televisivo. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.